Sono finiti in manette i 5 irriducibili della Sacra Corona Unita. Pompeo Rosario Padovano, Fabio della Ducata, Giuseppe Barba, Cosimo Cavalera e Massimiliano Scialpi, tutti di Gallipoli, sono accusati di aver continuato l'associazione mafiosa per la quale erano già stati rinviati a giudizio nel processo che comincerà il prossimo 20 gennaio. I 5 arrestati questa mattina tra le province di Lecce e Campobasso, dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, su ordine della Procura Distrettuale Antimafia Salentina, sono accusati di aver gestito le attività criminose del clan Padovano nel Basso Salento, reinvestendo i proventi illeciti in imprese apparentemente pulite. Capo della banda, per gli investigatori, sarebbe Pompeo Rosario Padovano, fratello dell'ex boss Salvatore, detto Nino Bomba, ucciso in pieno giorno in un agguato compiuto con colpi di arma da fuoco il 6 settembre di due anni fa, alla periferia di Gallipoli. Mandante del delitto per il quale tre persone furono arrestate nell'ottobre del 2009, sarebbe stato proprio Pompeo Rosario Padovano, fratello del boss ammazzato.